Prima volta che il CISM si riunisce qui in Italia, nel tredicesimo municipio, nella sede delle Fiamme Gialle. Insomma, veramente una grande manifestazione. Sì, è vero, è una manifestazione importante e significativa perché riunisce, come appunto dicevo per la prima volta, i responsabili internazionali dei 24 sport che fanno parte integrante del programma del Consiglio Internazionale dello Sport Militare. Sono ufficiali che rappresentano moltissimi paesi e che hanno la responsabilità di gestire i calendari, lo sviluppo delle iniziative, l'organizzazione degli eventi internazionali. Il CISM organizza ogni anno circa 20 campionati del mondo, ogni 4 anni i giochi mondiali militari, le Olimpiadi militari, sia estive che invernali, per un totale annuo di circa 10.000 atleti. In particolare questa organizzazione, il CISM, di cui il Generale Gole è presidente, è una cosa molto importante perché ci ha spiegato nel suo intervento il Generale come si è svolta questa questione da circa 60 anni. Per di più, quest'anno è la prima volta che questa riunione si tiene al di fuori di Bruxelles e da quest'anno in poi comincerà a essere itinerante nei vari paesi partecipanti al CISM. Sei passato dal vincere medaglie a rappresentare chi le vince. Come sono queste prime impressioni da neorappresentante degli atleti europei del CISM? Questa è una bellissima esperienza che sto facendo, è un grande impegno e soprattutto un grande onore. il fatto di essere presidente della commissione europea, degli atleti nel Comitato Olimpico Europeo. Sta a significare anche l'importanza che l'Italia ha all'interno del Comitato Olimpico Europeo perché è grazie al prestigio che il CONI ha all'interno di questa organizzazione che io sono potuto diventare presidente, ovvio, oltre ai risultati e al curriculum che ho. A Vancouver, rispetto a Torino, quante altre medaglie possono portare gli atleti delle Fiamme Gialle? Secondo lei, e se c'è un outsider rispetto ai soliti nomi che si fanno? Noi aspettiamo che le ragazze e i ragazzi dello sci alpino, che purtroppo non furono fortunati a Torino, lo sci alpino italiano non ottenne, non solo delle Fiamme Gialle, ma nessuno ottenne buoni risultati, questa volta invece li ottengono e hanno dimostrato negli anni successivi che hanno tutte le caratteristiche. Il mio outsider è un atleta giovanissimo della combinata, si chiama Pittin, è un giovanissimo finanziere friulano di Tolmezzo che è già arrivato secondo e terzo in Coppa del Mondo e che avendo solo 19 anni ha veramente un futuro straordinario davanti. Spero che già a Vancouver sia in grado di dimostrarlo. Spero che sia in grado di dimostrarlo.